Abbiamo, per esempio, la figura di Verdi, non come giusecista, ma come un produttore a rischio di nonno. Il progetto si chiama Dugerson 2015, questa terra è un'opera d'arte. È presentato da una scuola che è una veterana, io amo beni culturali, che ho dovuto statare con un produttore superiore di un materico, di un'opera d'arte e di un'opera d'arte e di un'opera d'arte. Anche questo ha moltissimi partner, che si parleranno, tra cui anche la città che basta in cerca, proprio la nostra città di Verdi e di un coltore. E come dicevo stamattina, è uno dei progetti che sono sovracomunali, che comprendono quel punto di vista. E quindi, insomma, anche per cambiare questo dono, io ho un po' di portata. Se lo presenta, direi direttamente...